Bene, allora oggi Tempi Moderni non ci dà notizie dirette sul lavoro, ma informazioni generali su corsi di formazione, stage e assunzioni. E lo fa con noi in video la bravissima Francesca De Vincentis. Vediamo. Buongiorno tornato e buongiorno a tutti i radio e telespettatori. Come vedete il vostro futuro lavorativo dà più assenzi e quale direzione lavorativa volete imprendere? L'80% delle persone che si presenta da noi agenzie di lavoro purtroppo non sa che direzione prendere. Il programma ROLA attraverso il bilancio delle competenze e in maniera totalmente gratuita è la risposta che ti consente di approfondire il tuo percorso lavorativo con esperti del settore. Contattaci per fare la differenza. Il numero di telefono è 081 562 8260. Oppure ci puoi contattare tramite i nostri canali social o ancora tramite il nostro sito www.tempimodernilavoro.com Tempi moderni, persone brave, non solo brave persone. Colore che stanno con noi il martedì sono bravi e in gamba a raccontare le opportunità che ci sono di formazione, di crescita e di lavoro. Noi abbiamo ancora un paio di minuti, Raffaele io vorrei fermarmi un istante ancora su questa vicenda della giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità perché poi il tema è come lo abbiamo fatto per altre giornate celebrative che poi durante tutto l'anno ci si dimentica di fare cose semplici a volte come creare quando si amministra uno scivolo ad un marciapiede oppure mettere in condizioni un bambino che non ha tutte le capacità, non è normodotato di poter svolgere le proprie funzioni vitali quando è a scuola. Ecco queste sono cose banali che meritano senz'altro maggiore rispetto e maggiore impegno da tutte le istituzioni a qualunque livello e ovunque vi sia responsabilità politica e istituzionale al comune, alla regione, al governo. Certo, ma pur per la regione, se tu vai in un centro per avere assistenza per un bambino disabile, dislessia o di altra patologia dalla prenotazione all'effettivo svolgimento delle terapie passano un anno, due anni, tre anni e sono costretti a rivolgersi al privato anche questo sarebbe un momento di intervento, però interventi di Nocchetti, ripeto, una persona stimabile per tutto quello che fa cento e lode per lui, dieci e lode per lui, però interventi che quando poi vanno strettamente sulla politica e si indirizzano verso una parte politica, un governo in particolare, perdono anche di costruttività. No, ma guarda, ti assicuro che in questo caso ne sono stato un testimone, anche quando io avevo responsabilità sul tema della scuola, sconti, zero, anzi, peggio ancora, quando sono della tua stessa parte politica e gli dai ancora più addosso. Allora, noi ci fermiamo qui, sono le 8.58 a Radio Napoli Centrale, cara Ramona, da laggiù, oggi non ci hai messo entusiasmo, la tua dieta di oggi forse non è di quelle... Mancano le proteine animali. Oggi solo soia, solo soia. Solo soia, va bene. Ci fermiamo qui, torniamo naturalmente domani, non prima di aver salutato e ringraziato Raffaele Ambrosini. Grazie a voi, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito anche sul canale 83 di TV Luna. Vi ricordo l'appuntamento di Barbe e Capelli speciale che va in onda questo giovedì alle ore 19. Parleremo in questo caso di virus sinciziale e della problematica legata appunto al virus che colpisce le vie respiratorie per i bambini. Ci sarà con noi il responsabile del pronto soccorso, il dottor Vincenzo Tipo. E poi un confronto importante anche sui temi dell'oncologia con il dottor Addeo, che dirige l'oncologia a fratta maggiore per l'AS Napoli del Nord. Concluderemo con i temi del lavoro e delle pensioni con il direttore dell'Inps, Bafundi, e il segretario della CGL, Nicola Ricci. Appuntamento per Barbe e Capelli, l'edizione mattutina, domani alle 7.30.